un saluto amici di calcio napoli 24 siamo qui a zinconia per intervistare il direttore per paolo marino che è stato una delle pietre miliare del napoli di aurelio de laurentis buongiorno direttore buongiorno a voi direttore la prima domanda è questa come è nato il paolo marino dirigente di calcio c'era un modello da seguire per lei quando era giovane ma intanto tutto è accaduto così velocemente che non mi sono neanche reso conto perché io ero entrato nell'avellino nel 77 con presidente arcangelo iapicca e direttore sportivo franco landri ed era entrato come pr del del presidente diciamo quindi nell'ufficio stampa in tempo in mi sono ritrovato ad essere un dirigente dell'avellino con funzioni importanti e quando è rientrato sibilia nella nella società mi ha praticamente eletto come suo alter ego e quindi eravamo in due in pratica a condurre l'avellino di serie a il presidente dio direttore lei come abbiamo benvenzionato ha fatto la gavetta ad avellino ma anche a pescare poi sbarcò a napoli l'anno dello scudetto ci può dire come era organizzata quella quella società e soprattutto il settore giovanile e se secondo lei lei ha avuto il modo e il piacere di lavorare uno dei più grandi direttori sportivi della lodi se per quel periodo era magari un uomo già avanti nel proiettato nel futuro visto che fece molte cose che ancora oggi sono attuali nel calcio ma sicuramente io sono andato a napoli voluto principalmente dal presidente ferlaino perché all'epoca io ho fatto otto campionati serie a tra gli altri tra gli altri alcuni praticamente da solo perché il presidente sibili aveva avuto delle vicende giudiziarie e reggendo la serie a d'avellino con grandi soddisfazioni di tutti e quindi io suggerì e feci partire l'operazione maradona nell'84 e l'anno seguente ferlaino con la squadra che non andava bene mi chiamò e mi disse che al progetto avrebbe partecipato anche italo allodi che all'epoca era diciamo opinionista della domenica sportiva ed era aveva già fatto una carriera luminosissima era stato anche direttore del centro di coverciano e mi conosceva e naturalmente aveva grande stima per cui diciamo io sono andato come direttore generale al napoli all'odi era consuliere del presidente ed è stato un grande ombrello per me e nonché un grande maestro in quel periodo di napoli dove abbiamo fatto cose straordinarie perché abbiamo vinto abbiamo fatto un terzo posto al primo anno con il record dei punti del napoli nel campionato a 16 squadre 39 punti e poi abbiamo fatto l'anno dopo scudetto e coppa italia dettore si dice che lei in quel napoli di ferlaino si sia dimesso anche per divergenze con con luciano moggi vera questa cosa no io avevo rinnovato da poco il contratto sono andato via perché mi voleva la roma innanzitutto ma poi c'era questo problema che arrivava moggi in quanto all'odi era stato colto da un ictus e fu assimilata la cosa anche al problema che che arrivava moggi però in realtà io andavo via perché c'era stata una vicenda io avevo bloccato matteo l'otar mateo mateus l'otar mateus a parametro uefa che c'era allora non c'era ancora l'ige bosman quindi con un miliardo e 600 milioni di lire che era un prezzo irrisorio e in realtà avevo preso un impegno con matteus e e poi non fu ratificato l'acquisto per quello cominciarono una serie di incomprensioni con il presidente ferlaino e ruppi il contratto e passai alla roma